Buongiorno a tutti, benvenuti al nostro webinar di ottobre in cammino con la piattaforma di iniziative Radato Si. Io sono Sara Mandel e vi do il benvenuto dal De Castelo per il servizio dello sviluppo umano integrale e del team che lavora per la piattaforma, supportato dal nostro partner movimento Radato Si. Vi saluto da Indianapolis Indiana, riconoscendo la sua posizione sul territorio tradizionale e ancestrale dei popoli Miami, Potowati e Shawi e di altre tribù costrette ad abbandonare queste terre. Onoriamo l'erdità dei popoli nativi, ciò che ci insegnano sulla cura della terra e i loro continui sforzi per proteggere il pianeta. Questo nostro webinar mensile mira a supportarvi, partecipanti e amici della nostra piattaforma, nel cammino verso la piena ecologia integrale. Oggi però c'è un'atmosfera diversa. Molti sono ancora entusiasti per la pubblicazione dell'esortazione apostolica di Papa Francesco, Laudatideum. Direi entusiasti, ma anche in riflessione. Laudatideum, il Papa scrive, un essere umano che pretende risostituirsi a Dio diventa il peggior pericolo per se stesso. Alcuni la definiscono la seconda parte della Radato Si, pubblicata otto anni fa e che dà anche il nome alla nostra piattaforma. Il Papa si rivolge nuovamente non solo ai cattolici, ma a tutte le persone di buona volontà, ma stavolta resta particolare attenzione alla crisi climatica. Ieri abbiamo celebrato anche la festa di San Francesco, il cui Cantico delle Creature ha ispirato il titolo della Radato Si e della nostra piattaforma. Ieri è stato anche il termine del tempo del creato, durante il quale abbiamo parlato di giustizia e pace che scorrono come un fiume. È stata una settimana molto intensa. Ieri, per l'appunto, è stato anche l'inizio del Sinodo sulla Sinodalità, che riunisce Vescovi di tutto il mondo per un momento di ascolto, dialogo, contemplazione e discernimento. E che Papa Francesco ha descritto ieri come un camminare insieme sotto lo sguardo di Gesù. E conclude, infatti, la Laudate Deum con un appello simile. Camminare insieme lungo un percorso di riconciliazione con il mondo che ci ospita. E questo camminare insieme è anche una ragione essenziale per cui esiste la nostra piattaforma di iniziative Laudato Si. I nostri partecipanti provengono da vari settori e tutti noi cerchiamo di trasporre la saggezza della Laudato Si e della Laudate Deum in obiettivi concreti e attuabili, definendo piani e mettendoli in atto. Abbiamo definito obiettivi specifici legati alla Laudato Si che ci aiutano a rispondere al grido della terra, al grido dei poveri, dagli stili di vita sostenibili, all'istruzione, dalla resilienza della comunità all'economia ecologica e alla spiritualità ecologica. E oggi approfitteremo il tema della spiritualità ecologica e di come si collega all'ecologia integrale. Alcuni annunci pratici, questo webinar è interpretato in italiano, spagnolo, portoghese e francese. Se volete seguirlo in una di queste lingue, potete cliccare sul pulsante dell'interpretazione sullo schermo in basso, selezionando la vostra lingua, in modo da poter seguire il webinar. Secondo annuncio, questo webinar viene registrato e trasmesso in live streaming su YouTube. Solo i relatori saranno visibili. Speriamo che salviate il link per rivederlo e condividerlo. Terzo annuncio, in qualsiasi momento potete inviare domande per i nostri relatori scrivendole nella sezione Q&A. Le domande scritte nella chat probabilmente andranno perse, quindi vi invito a utilizzare il pulsante Q&A e risponderemo a quanto è possibile. Per ultimo, vi invitiamo ad aiutarci a rendere questa comunità globale, quindi vi chiediamo che ogni commento nella chat sia positivo. Ed ecco l'agenda del giorno. Per prima cosa, un saluto da parte del direttore della piattaforma che ci parlerà della Laudate Deum, una preghiera di apertura. Quindi ascolteremo l'oratrice principale di oggi, Marie Dennis. Ci sarà poi spazio per domande e risposte, oltre che per i saluti e la preghiera finale. E ora invito John Mandela, il direttore della piattaforma, a salutarci. Buongiorno a tutti. Condivido il mio schermo. Potete vederlo? È un piacere essere con voi e vedere la grande partecipazione a questo webinar. E ieri abbiamo assistito alla pubblicazione della nuova esortazione apostolica Laudate Deum di Papa Francesco, però lodea a Dio sulla crisi climatica. E mi piacerebbe dire soltanto alcune parole, dandovi una sorta di sintesi. La Laudate Deum è rivolta a tutte le persone di buona fede ed è costituita da un'introduzione, da sei capitoli. L'introduzione e il primo capitolo riguardano la crisi climatica globale. Papa Francesco avverte che gli eventi estremi, calore eccessivo, siccità, forti piogge, inondazioni, stanno peggiorando da quando è stata pubblicata la Laudate Deum nel 2015. Il cambiamento climatico è innegabile e gli umani ne sono la causa. C'è un'altra conclusione. Non abbiamo agito abbastanza per limitarne le cause. Nel capitolo 2 il Papa ci parla del paradigma tecnocratico, sottolineando che la natura non è una risorsa da sfruttare. Ci spinge a riconoscere che l'ambizione sfrenata non è eticamente sostenibile. Nel capitolo 3 il Papa Francesco riassume la debolezza della politica internazionale e sottolinea l'urgenza di una cooperazione globale attraverso nuovi accordi multilaterali. Nel capitolo 4 il Papa riflette sulla conferenza, sul vertice, sul clima, su suoi progressi e sui suoi fallimenti e incoraggia la necessità di superare l'egoismo dei paesi a favore del bene comune globale. Nel capitolo 5 riflette più specificamente su cosa ci si può aspettare dalla COP28 che si svolgerà a Dubai se non vogliamo condannare l'umanità all'oblio. Nell'ultimo capitolo, che si intitola Motivazioni spirituali, il Santo Padre invita persone di tutte le confessioni religiose a rispondere e ci ricorda alla luce della fede. Ecco, passa alla diapositiva successiva. Ecco, ci ricorda che la fede autentica non solo dà forza al cuore umano, ma trasforma la vita intera, trasfigura gli obiettivi personali, illumina il rapporto con gli altri e i legami con tutto il creato. E' questo lo scopo effettivo della piattaforma. Ha dato sì una conversione ecologica. Sta parlando di noi e del lavoro che stiamo cercando di fare. Papà Francesco ci ricorda poi che siamo tutti interconnessi e ci invita tutti a camminare in comunione. Ci dice, nello specifico. La fede autentica, anzi, l'ho già letta. Mi sono confuso, chiedo scusa. Dicevo. La vita umana è incomprensibile e insostenibile senza le altre creature. Infatti, noi tutti esseri dell'universo siamo uniti da legami invisibili e formiamo una sorta di famiglia universale. Una comunione sublime che ci spinge ad un rispetto sacro, amorevole e umile. Ed è questa la nostra motivazione ad agire, questo riconoscimento. Dice inoltre... Passo alla prossima diapositiva. Se l'universo si sviluppa in Dio, che lo riempie tutto, quindi c'è un mistero da contemplare in una foglia, in un sentiero, nella ruggiada, nel volto di un povero. Il mondo canta un amore infinito. Come non averne cura? E poi prosegue illustrando vari modi in cui le nostre azioni diventano trasformatrici della cultura. E vi invito a leggere i paragrafi 69, 70 e 71 e fornisce davvero degli ottimi esempi su cui riflettere. Quindi spero che questo breve sommario possa esservi utile. E torno a dare la parola a Sara. Se vuoi, in realtà, Giona, puoi continuare tu. Continuiamo con una preghiera iniziale che ti permette di entrare in sintonia con la Laudate e Deum. Ho qui con me la preghiera, l'ho anche in spagnolo, aspettate un attimo e la condivido. Ed eccola. Ovviamente condivido il mio schermo, chiedo scusa. Scusa. Cerco di condividere lo schermo, chiedo scusa ancora, sta arrivando. Eccoci. È una preghiera differente, diciamo, di San Francesco. La chiamiamo preghiera inversa di San Francesco. Ma si adatta bene a questa esortazione apostolica. Quindi preghiamo assieme. Dove c'è patia, fa che io provochi. Dove c'è conformità, fa che io ponga domande. Dove c'è silenzio, fa che io possa essere una voce. Dove c'è troppa comodità e poca azione, concedi il disagio. Dove ci sono porte chiuse e cuori serrati, concedi la volontà di ascoltare. Quando le leggi regnano sovrane e il dolore viene trascurato, quando la tradizione parla più forte del bisogno, concedimi di poter cercare e rendere giustizia piuttosto che parlarne. Turbaci, oh Signore, per poter essere con e per gli alienati, per amare ciò che non è amabile e ciò che non è bello. Signore, va di me uno strumento di turbamento. Grazie mille a tutti. Grazie per questa preghiera. È una preghiera che ci spinge a superare la nostra zona di comfort e ci incoraggia a fare lo stesso con gli altri. Mentre ci prepariamo per la nostra relatrice principale, volevo ricordare a tutti che per essere davvero una comunità globale vi chiedo di mantenere questa atmosfera di rispetto, di riconoscimento. E ora introduciamo la nostra relatrice principale. Pensando a una conclusione per il tempo del creato, che è stato dedicato al tema che la giustizia e la pace scorrono, abbiamo voluto creare uno spazio per considerare la pace in relazione con l'ecologia integrale. E quindi presento Mary Dennis. Maria è direttrice senior del programma per l'iniziativa cattolica per la non violenza di Pax Christi International. Ha fatto parte del consiglio di amministrazione di Pax Christi per vent'anni, dal 2007 al 2019. È ambasciatrice di pace di Pax Christi Stati Uniti. E ha ricevuto il premio Pax Christi Teacher of Peace della 2020. E in precedenza ha diretto il Marinal Office for Global Concerns per quindici anni. È autrice di sette libri ed editrice del pruripremiato Orbis Book Choose Peace. Maria è stata nominata Persona dell'Anno dal National Catholic Reporter nel 2016 e ha ricevuto dottorati onorari da ben due università. Se avete domande per Maria durante la sua presentazione, scrivetele nella sezione Q&A nella parte inferiore. Maria, benvenuta. Non vediamo l'ora di ascoltarti. Grazie mille, Sara. È un piacere essere con voi. La preghiera è stata bellissima. Fa di me uno strumento di turbamento. Sicuramente è un appello alla non violenza. Buongiorno a tutti. Buon pomeriggio, buonasera. Sono lieta di essere qui con tutti voi e riconosco con gratitudine e rispetto che io vi parlo da Washington, dal terra tradizionale delle varie tribù. La nostra riflessione di oggi, mentre concludiamo il tempo del creato, riguarda l'obiettivo della piattaforma d'iniziativa, l'ha dato sì, della spiritualità ecologica, in particolare come la pace e l'ecologia integrale sono interconnesse. Papa Francesco ha risposto più volte a questa domanda anche nel suo messaggio in occasione della giornata per la preghiera del creato. Dice, quando manteniamo un giusto rapporto con Dio, l'umanità e la natura, la giustizia e la pace possono fluire come un flusso inesauribile di acqua pura, nutriendo l'acqua e le creature. Il Papa si concentra sulle giuste relazioni e lo fa anche nella laudato sì, afferma pace, giustizia, salva guardia dell'acreato, sono tre questioni del tutto connesse che non si possono separare in modo da essere trattate singolarmente appena di ricadere nuovamente nel riduzionismo e nel laudate Deo, ma ce lo ricorda di nuovo, tutto è interconnesso. Dunque non possiamo comprendere la visione del laudato sì, senza prenderci cura delle giuste relazioni, senza produrre la giustizia e la pace. Tutti siamo amati come individui agli occhi di Dio, ma siamo anche individui all'interno di comunità, all'interno del quale dobbiamo stabilire delle giuste relazioni, evitando la violenza e l'ecologia spirituale può fiorire solo se accompagnata da una spiritualità della non violenza che ci aiuta a trasformare le culture della violenza in culture di pace e non violenza. Papa Francesco si chiama tutti a compiere questo compito trasformativo in questa esortazione apostolica. ieri, come ha detto Sara, abbiamo celebrato la festa di San Francesco la cui assenza proclamava con urgenza e gioia il senso di essere in un'unione mistica con tutto ciò che esiste. e a proposito del poverello in Fratelli Tutti, Papa scrive San Francesco si sentiva fratello del sole, del mare, del vento, sapeva di essere però più unito a quelli che erano della sua stessa carne. Dappertutto seminò pace e camminò accanto ai poveri, agli abbandonati, ai malati, agli scartati, agli ultimi. E nel Cantico delle Creature Francesco chiama tutto il creato come fratello e sorella. Tutto ciò che è stato creato, terra, oceani, piante, animali, rocce, acqua, tutto ciò che è animato e inanimato merita amore, fratello e rispetto. E il Cantico delle Creature non è solo una bella poesia, è una profonda celebrazione delle Creature. Francesco ha sperimentato in anticipo il futuro a cui tutti noi siamo oggi chiamati. Era presente, assistito a questo nuovo creato a causa della sua stessa trasformazione personale, della sua conversione ecologica che gli ha permesso di cercare, di installare giuste relazioni con tutti, lebrosi, nemici, anche incluso il sultano Malik al-Kaim e con tutte le creature di Dio. Dunque, laudato sì, oh mio Signore, per tutte le creature, specialmente per Messer, frate sole, il quale porta al giorno che ci illumina ed esso è bello e raggiante con grande splendore. Di te, altissimo, porta a significazione. laudato sì, oh mio Signore, per sora luna e le stelle, per frate vento e per l'aria, per sora acqua, per frate fuoco. Laudato sì, oh mio Signore, per madre terra, la quale ci sostenta e governa e produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba. È difficile credere che Francesco fosse malato e quasi completamente cieco quando ha composto il Cantico delle Creature che ha il potere di accendere in noi il desiderio del Paradiso come una comunione armoniosa con tutte le creature, una ricca spiritualità ecologica radicata in relazioni giuste e non violente. Davvero un pensiero bellissimo. Nel terzo messaggio in occasione della giornata mondiale per la cura del creato Papa Francesco fa riferimento alla guerra insensata contro il creato e ripete anche nella Laudato Deum e menziona soprattutto gli effetti soprattutto sulla sorella acqua e sul clima e dunque ci invita a prestare attenzione perché la nostra spiritualità cristiana è radicalmente fondata sull'incarnazione e la Laudato sì di fatto ci ha aiutato a vedere chiaramente che il grido della Terra e la sofferenza di tante creature che vivono su questo pianeta sono interconnesse con la violenza umana compresa la cultura culturale dell'indifferenza del dominio la violenza diretta della guerra e della militarizzazione la violenza economica di progetti estrattivi distruttivi di progetti di sviluppo insostenibili o di stili di vita mirati solo al consumo ad esempio molte comunità in cui è presente Pax Christi sono state presentemente colpite dalle attività delle aziende che sfruttano le risorse naturali tra cui petrolio gas oro argento ferro rame litio cobalto manganese nickel grafite stagno così come altri progetti di sviluppo su larga scala e come afferma il programma ambientale delle Nazioni Unite le emissioni di gas serra la contaminazione il consumo eccessivo di acqua nonché l'inquinamento della terra e degli ecosistemi virtuali la perdita della biodiversità ecco sono solo alcune delle minacce ecologiche che derivano da progetti estrattivi la ricerca ha inoltre mostrato che la guerra i preparativi per la guerra richiedono un uso intenso di combustibili fossili e contribuiscono sostanzialmente al cambiamento climatico oltre ad avere un enorme impatto sull'ambiente fisico ormai vaste aree del pianeta terra sono state rese inabitabili e improduttive durante e dopo guerre e conflitti violenti a causa di mine bombe a grappolo altre munizioni inquinamento distruzione di foreste abita oltre che di molte specie diverse di piante e animali pensate che una singola testata nucleare potrebbe causare un cambiamento climatico devastante con conseguenze come siccità carestie che potrebbero causare e costare un miliardo di vite allo stesso tempo in tutto il mondo gli impianti nucleari e test sulle armi hanno già contaminato terra e acqua con rifiuti radioattivi che durano migliaia e migliaia di anni la comunità si trova ad affrontare una crisi spirituale ecologica e sociale infiamata quotidianamente da una cultura mondiale di violenza e guerra e se non siamo in grado di effettuare questa transazione ovvero una conversione ecologica da un paradigma in cui la violenza è la norma a un paradigma che cerca pace giustizia e abbraccia la non violenza non saremo mai in grado di avvicinarsi alla visione della laudato si e la conversione ecologica secondo la laudato si implica l'amore e consapevolezza di non essere separati dalle altre culture ma di formare con gli altri esseri dell'universo una splendida comunione universale quindi la non violenza è un progetto che alimenta proprio questa conversione ecologica verso le giuste relazioni tra gli umani e tra gli umani e il resto del mondo dal vecchio modo di dominio sfruttamento verso una quella che viene definita nella laudato si una civiltà dell'amore la non violenza personale interpersonale socio strutturale ed ecologica è una spiritualità e uno stile di vita essenziali per la conversione ecologica e per la spiritualità ecologica e al centro della non violenza evangelica c'è il discorso della montagna la visione che Gesù rivolge ai propri discepoli con il suo nuovo comandamento della non violenza e nel suo messaggio per la giornata mondiale della patria del 2017 Papa Francesco ci ricorda cito essere veri seguaci di Dio oggi significa anche abbracciare il suo insegnamento della non violenza e poi cita il suo predecessore Benedetto XVI che dice per i cristiani la non violenza non è semplicemente un comportamento tattico ma un modo di essere in modo di essere di una persona l'atteggiamento di chi è così convinto dell'amore e della potenza di Dio da non aver paura di affrontare il male solo con le armi dell'amore e della verità l'amore del nemico costituisce il nucleo della rivoluzione cristiana è la spiritualità cristiana cattolica è un sacramento pensiamo all'acqua al vino all'olio ai chicchi di grano noi consideriamo la riconciliazione come un sacramento anche con e anzi forse soprattutto con i nostri nemici e nei suoi appunti Catholic Non Violence Initiative sulla teologia della non violenza John Deere scrive la non violenza è un modo di parlare del mistero essenziale di Dio rivelato e incarnato in Gesù Cristo ed è la trasformazione attiva dell'umanità da parte di Dio nel regno non violento di pace e giustizia quindi la nostra immaginazione sacramentale può aiutarci a comprendere questa affermazione in quanto etica universale la non violenza offre alla Chiesa un fondamento teologico pastorale e strategico per il lavoro a lungo termine di lotta e costruzione di un futuro che viene immaginato nella laudatosi è un paradigma basato sulla pienezza della vita con cui siamo chiamati a rispondere alle grandissime sfide contemporanee dalla distruzione dell'Amazzonia alla minaccia delle armi nucleari e al cambiamento climatico per l'appunto dall'oppressione dei migranti alle sofferenze causate dalla tratta degli esseri umani dalla violenza della povertà e del consumo alla catastrofe causata dalla guerra e alla distruzione del nostro bellissimo pianeta la non violenza è un quadro teologico e pratico che tratta tutte queste forme di violenza quindi la non violenza evangelica è questo ma anche molto di più di una strategia politica è una visione del mondo attraverso la quale vediamo interpretiamo la vita è un insieme di virtù e di principi per guidare il nostro comportamento personale è un'etica globale una serie di strategie di efficacia per la trasformazione sociale e la guarigione ambientale la non violenza non è passiva non lo è mai piuttosto la non violenza dice la verità in una lotta globale per l'integrità la pace giusta e la sostenibilità ecologica può trasformare e guarire le nostre vite e il nostro mondo ma questo profondo cambiamento richiederà una cooperazione senza precedenti oltre alla conversione del cuore la lotta non violenta e la pienezza dell'amore non violento e richiede anche l'educazione l'addestramento e la creazione di nuove capacità oltre che l'adozione di strategie appropriate necessarie per il futuro che vogliamo e di cui Papa Francesco scrive così eloquentemente quindi una risposta comprensiva al grido della terra richiederà una conversione alla non violenza che accompagnata dalla dalla conversione ecologica nonché da un'azione coraggiosa che permette di guarire le ferite che abbiamo inflitto sulla terra dunque lasciate che lo ripeta rispondere al grido della terra richiederà una conversione alla non violenza accompagnata dalla conversione ecologica dalla spiritualità da azioni coraggiose per guarire le ferite che abbiamo inflitto alla terra la non violenza non è semplicemente una posizione un'idea o una spiritualità statica è un processo che è semplificato nel processo sinodale di cui siamo consapevoli oggi dunque è un processo che può trasformare attivamente le sfide che affrontiamo e creare aperture e spazi per la vita e la guarigione la non violenza è una metanoia dalla menzogna della violenza e ingiustizia alla verità e alla giustizia è una forza del bene basata sulla speranza e può può promuovere il passaggio storico e cruciale verso un mondo in cui il valore di ogni persona è apprezzato in cui la nostra casa comune è onorata e protetta nel suo libro del 2023 chiedono il nome di Dio dieci preghiere Papa Francesco scrive il reverendo Martin Luther King una fonte di ispirazione per i suoi appelli alla pace lo ha espresso chiaramente nell'ultimo discorso pronunciato prima del suo assassino Martin Luther King disse non si tratta più di scegliere tra violenza e non violenza ma tra non violenza e non esistenza la scelta aspetta a noi e dunque facendo eco a Martin Luther King Papa Francesco dichiara che la non violenza è essenziale per la sopravvivenza della terra e dei suoi abitanti perché offre un'alternativa allo status quo alle riforme frammentarie o semplicemente all'idealismo si tratta invece di un'etica di uno stile di vita e di un insieme di metodi che rifiutano la violenza rifiutano i danni e mobilitano l'amore come base per creare soluzioni collaborative alla crisi climatica e mobilitando anche la volontà pubblica in modo da poterle implementare e una mia collega di Pax Crisciti ieri ha scritto la laudate deum è un appello all'azione non violenta e allo stesso tempo è essa stessa una forma di non violenza facendo appello a tutti gli uomini e donne del mondo per imbarcarsi in un nuovo cammino rifiutandosi di danneggiare la terra e se stessi e rifiutando la violenza globale del mondo chiedendo loro di affrontare questa realtà e chiedendoci di passare ad un futuro non più violento quindi sì la non violenza è una compagna essenziale della spiritualità ecologica in questo viaggio verso un futuro all'insegna della laudato sì quindi quello spirito si sta muovendo anche in questi tempi difficili grazie a tutti grazie mille Marie tantissimi spunti di riflessioni e in questo tempo limitato che abbiamo a nostra disposizione ci sono tantissime cose che potremmo dire sono sicura che avremo modo di rispondere alle domande che ci sono pervenute una domanda che ci è stata ripetuta più volte riguarda la considerazione della biodiversità e il trattamento degli animali la chiesa cosa fa e cosa dice a questo proposito dovrebbe promuovere delle abitudini alimentari diverse cosa puoi dirci certo certo dovremmo rivedere i nostri stili di vita soprattutto nel nord globale al termine della lodate deum Papa Francesco parla direttamente agli Stati Uniti e al nord globale riguardo i nostri stili di vita e una parte fondamentale dei nostri stili di vita è il consumo di carne che ha aumentato a livelli insostenibili che contribuisce notevolmente alla crisi climatica quindi sì dovremmo sì sicuramente il livello di consumo soprattutto di carne stavo leggendo questa mattina quanta differenza potrebbe fare se la chiesa potesse tornare a evitare il consumo di carne il venerì almeno nel nord globale quindi in questo noi possiamo effettivamente definire la nostra dieta come un'espressione di violenza e cambiando questa dieta potremmo definirla come un cambiamento verso la non violenza quindi pensiamo quindi alle diete di noi che viviamo nei paesi per così dire sviluppati e invece la dieta di milioni e milioni di persone nel resto del mondo è già questa differenza è una forma di violenza certo dobbiamo sicuramente cambiare le nostre vite per ragioni ambientali ma anche cambiare le nostre diete nel perseguire un'economia più giusta e una distribuzione più equa delle risorse sicuramente questo è un messaggio che interessa a molti dei dei nostri spettatori quindi l'iniziativa cattolica per la non violenza tratta di questo tema la la nostra iniziativa è una una rete di base e quasi tutto il nostro lavoro proviene dall'energia e dall'empatia delle persone che lavorano all'interno del proprio contesto per promuovere pace giusta e un ambiente sano quindi sicuramente trattiamo anche della dieta del trattamento degli animali quindi è un tema centrale diciamo che il nostro lavoro è molto decentralizzato crediamo che il lavoro per la giustizia e per l'integrità ecologica e per la non violenza deve essere appropriato dal punto di vista del contesto in cui si svolge grazie e il nostro pubblico di fatto è globale quindi grazie per riconoscere l'importanza anche del contesto quali altri esempi e modi in cui la violenza influenza e l'ha creato beh stavo pensando che Papa Francesco nella Laudate Deum ci ha fornito un elenco di esempi importanti ad esempio la nozione di un essere umano senza limiti con possibilità che possono essere espansi all'infinito grazie alla tecnologia ecco Papa Francesco lo menziona come un problema parla di un paradigma tecnocratico di un modo di pensare soprattutto un modo di pensare non accompagnato dalla responsabilità individuale da valori e lo definisce quasi come una mostruosità che si alimenta di se stessa è una sorta di violenza potremmo dire noi è un paradigma violento che abbiamo creato che abbiamo diffuso in tutto il mondo e che influenza la nostra vita quotidiana e un altro esempio di violenza che era incluso nella Laudato Si e che viene ripetuto nella Laudate Deum ed è un esempio difficile da ascoltare è l'idea di crescita illimitata come sappiamo le economie sono misurate in base alla loro crescita e quindi si presume che la crescita sia implicitamente positiva però dobbiamo cercare di differenziare qual è la risposta del nord globale alla crescita e qual è la risposta nella sud globale alla crescita nel nord sovrasviluppato dobbiamo mettere in questione e riflettere sulla domanda la crescita illimitata è effettivamente positiva un terzo esempio di nuovo menzionato nella Laudate Deum è l'ideologia che sostiene l'accrescimento del potere umano e il fatto di credere che le realtà per così dire non umane siano esclusivamente delle risorse a disposizione degli uomini quindi queste idee del genere sono molto violente sono espressioni di violenza in una pianeta che è estremamente violento e rappresentano il fallimento degli umani che non riescono a riconoscere il fatto di essere parte del creato e la prossima domanda riguarda un passaggio della tua presentazione dicevi che la Laudate Deum è un appello alla non violenza ma è se stessa un un'espressione di non violenza in quali altri modi possiamo agire in modo non violento è una sfida molto importante che si pone dinanzi a noi dobbiamo immaginare a modi molto più ricchi e molto più differenziati di organizzarci e esprimere la nostra posizione non violenta pubblicamente io penso che sia interessante il fatto che si possa considerare la Laudate Deum come un'espressione di non violenza molto di quello che stiamo facendo come parte della piattaforma di iniziative Laudato sì i nostri piani come individuali come famiglie come organizzazioni come scuole università attività eccetera ecco quello che stiamo facendo attraverso i nostri piani prevedono elementi non violenti che possono effettivamente fare la differenza ad esempio cambiare i propri stili di vita adottando più coscienza ad esempio nell'utilizzo dell'acqua questi sono effettivamente esempi che ci conducono alla non violenza ci sono anche altri esempi interessanti da poco abbiamo organizzato delle conferenze per analizzare l'azione non violenta di attivisti locali e uno degli esempi che sono emersi è il lavoro di un'associazione di diritti umani e ambientali in Perù e nel corso di molti anni ha utilizzato una serie di azioni non violente che spesso includono dimostrazioni non violente e anche campagne che riguardano cambiamenti legislativi a vari livelli locale piuttosto che nazionale fino a livello delle Nazioni Unite e della Banca Mondiale ecco tutti questi sono strategie non violente e soprattutto si sono ad esempio opposti alle azioni di una azienda minatrice che ha distrutto le loro riserve acquifere e spesso le azioni non violente riguardano azioni a più livelli quindi si tratta spesso di istituire delle cooperazioni a livello locale si tratta spesso di unire dimostrazioni pubbliche con campagne piuttosto che vari modi di dimostrare il numero di persone coinvolte io credo che tutti quelli che partecipano alla conversazione dell'allavato sì tutti sono consapevoli di esempi di non violenza ma il punto è che spesso non li consideriamo come non violenti spesso non consideriamo queste azioni come parti di un paradigma non violento e non consideriamo che la conversione a cui siamo chiamati è in effetti una conversione alla non violenza una conversione che accompagna anche la conversione ecologica quindi non si tratta di un salto nel buio sono sicura che già voi vi siate mozzi verso la conversione ecologica certo spesso non ci rendiamo conto delle azioni che abbiamo già messo in essere quindi possiamo forse renderci conto di essere già parte di questo paradigma non violento adoperando la conversione ecologica c'è un'altra domanda penso di un di un giovane una giovane cercando di essere rappresentanti dell'ecologia integrale della non violenza dobbiamo anche in un certo senso tradurlo nel nostro lavoro quindi come possiamo mantenere queste posizioni in un contesto lavorativo che si basa soprattutto sul capitalismo come possiamo riuscire a raggiungere diciamo il successo in un in questo contesto è una domanda interessante ed è una sfida per tutti noi la mia risposta è la comunità credo che la comunità sia un elemento essenziale di questo cammino e sappiamo di essere esseri sociali non solo individui e che sia una comunità che vive assieme o una comunità che si unisce per identificare nuovi modi di vivere di agire io penso che l'economia di San Francesco sia un esempio stupendo frutto di un pensiero creativo e frutto di del pensiero di una comunità di economisti giovani a livello globale quindi è importante sia a livello globale che a livello locale se facciamo parte di una comunità non vivremo solo più in armonia con la natura ma saremo anche in grado di supportarci a vicenda rafforzando i valori che ci permettono di avere il coraggio necessario per vivere e vivere realmente in modo da rispettare tutto il creato e tutte le altre persone nonché tutte le altre comunità quindi per me la comunità e il coraggio sono fondamentali per il futuro è una sfida difficile non esistono risposte facili o soluzioni facili però ho molta speranza e ho la speranza perché ho avuto il piacere di incontrare persone in tutto il mondo mini giovani che hanno riconosciuto la violenza sistemica inflitta alle persone e al pianeta e persone giovani che si sforzano di risolvere questi problemi di affrontare le cause di base ci sarebbero tantissimi esempi da citare e apprendere ciò che stanno facendo gli altri per apportare cambiamenti direi che incoraggia anche noi quindi il mio consiglio è unire le forze con altri fare parte di una comunità e entrare a far parte di Pax Christi come che vi permetterà di essere parte anche di una comunità simile a quella del Movimento Laudato sì certo questa è anche la mia esperienza quella di essere parte di un movimento con persone di tutto il mondo quindi grazie per condividere questa tua speranza questa tua interpretazione e chiedo scusa volevo notare soltanto che nella chat condivideremo un link con un elenco di suggerimenti che vi permetteranno di rispondere e agire quindi esempi molto concreti come per esempio preghiere specifiche o altri esempi come appunto quello di unire le forze con altri individui che hanno la vostra stessa posizione piuttosto che organizzare seminari e workshop che possono far capire ai partecipanti cos'è la non violenza evangelica quindi il link anzi è già nella chat grazie mille fantastico quindi questo risponderà alla nostra domanda cosa possiamo fare quindi ispirati dai nostri valori e ci aiuterà sicuramente ci sono tantissime domande mi piacerebbe poter avere un'altra ora per poter rispondere purtroppo altri sono pronti per andare a dormire altri stanno per iniziare la loro giornata lavorativa però grazie mille per le domande grazie anche a tutti quelli che hanno condiviso le proprie domande e i propri spunti e riflessioni nella chat conferma quante persone sono impegnate e volenterose in tutto il mondo volevo menzionare prima di chiudere qualcuno chiedeva la lavate Deum è solo per i cattolici e in realtà la laudate Deum ma proprio come la laudato si si rivolge a tutti gli uomini di buona volontà tutte le persone di buona volontà quindi sicuramente è un insegnamento che la comunità cattolica accoglie ma è un insegnamento rivolto anche a tutti quindi rivolto a tutti dovunque ci troviamo è un appello a cui tutti dobbiamo rispondere quindi se nel vostro cuore vi chiedete come posso aumentare queste mie azioni forse ecco è il momento di analizzare appunto le parole di Papa Francesco e quanto abbiamo detto oggi anch'io ho molta speranza nell'accogliere la laudate Deum ci sono appelli forti in questo nuovo documento e parlarne mi dà speranza mi dà speranza di poter effettivamente camminare insieme sotto lo sguardo di Dio quindi grazie mille ringrazio anche i nostri interpreti e tutti coloro che lavorano dietro le quinte la squadra tecnica ovviamente tutto questo non sarebbe possibile senza proprio coloro che lavorano dietro le quinte voglio condividere soltanto alcuni annunci brevi ci sono anche moltissimi ringraziamenti per Temari nella chat se desiderate ricevere novità sulla piattaforma di iniziative potete appunto iscrivervi alla piattaforma di iniziative laudato si visitando il sito web è già possibile caricare sulla piattaforma varie versioni dei vostri piani quindi abbiamo appena concluso il tempo del creato quindi può essere un'opportunità per rivedere i nostri piani per l'anno che verrà e non dimenticatevi di inviarci le vostre storie e foto per ispirare anche altri e cercate anche le risorse disponibili riguardo alla laudate deum ci sono già vari sommari che sono stati inviati ufficialmente e che possono permetterci di iniziare la conversazione sulla laudato deum visitando www.laudatedeuma.org c'è appunto un altro sommario simile a quello che c'è illustrato prima John disponibile in varie lingue e c'è anche una infografia disponibile quindi ripeto www.laudatedeuma.org e questo è il secondo anno della piattaforma di iniziative radotosi e questo secondo anno si conclude in novembre stiamo preparando un rapporto annuale e sarà pronto per il prossimo webinar che sarà il sedici novembre un seminario in cui un webinar in cui appunto sottolineremo la nostra crescita quindi come dicevo prossimo webinar sedici novembre sempre alla stessa ora quindi aspettate di ricevere una e-mail a riguardo e ora la preghiera di chiusura presento padre Daniele Rodriguez Blanco il direttore dell'ufficio giustizia pace e integrità del creato al momento è a Roma però in realtà proprio in questo momento si trova nella sua nazione natale è stato preside del dipartimento di teologia dell'università Raffaella Landivar di Guatemala è stato anche in Nicaragua Honduras e Haiti quindi grazie Daniel per condividere questa preghiera finale con noi grazie siamo sempre più convinti che non potremo passare al paradigma della cura della casa comune senza spiritualità ma non una spiritualità qualunque abbiamo bisogno di una spiritualità ecologica esistono molte spiritualità alcune addirittura in conflitto tra loro ad esempio il paradigma antropocentrico o tecno centrico richiedeva la spiritualità cristiana ma la buona notizia è che questa stessa tradizione spirituale porta in sé un'altra prospettiva a seconda del momento epocale in cui ci troviamo è ciò che chiamiamo eco spiritualità che comporta un atteggiamento alternativo di profonda venerazione e fraternizzazione con l'universo e di compassione e tenerezza verso tutti i membri della comunità cosmica e planetaria Francesco di Assisi è un riferimento per questa eco spiritualità vorrei quindi proporvi di concludere questo nono webinar dell'anno recitando insieme un canto popolare della regione dell'Umbria che ci presenta in modo chiaro e semplice quella che chiamiamo spiritualità ecologica capace di realizzare al meglio una pace globale preghiera piangendo Francesco disse un giorno a Gesù amo il sole amo le stelle amo Chiara e le sue sorelle amo il cuore degli uomini amo tutte le cose belle o mio signore mi devi perdonare perché te solo io dovrei amare sorridendo il signore gli rispose così amo il sole amo le stelle amo Chiara e le sue sorelle amo il cuore degli uomini amo tutte le cose belle o mio Francesco non devi pianger più perché io amo quel che ami tu pace e bene grazie mille frate Daniel per questa bellissima preghiera è stato un webinar davvero stimolante non vediamo l'ora di vedervi a novembre per celebrare tutti i vostri sforzi e auguri per il vostro lavoro con la piattaforma e alla prossima settimana al prossimo mese con la piattaforma